L'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno, Meridionale e Ionio ha approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un immobile per i servizi essenziali all'attività di prevenzione sanitaria e lavorativa del porto di Gioia Tauro, una vera e propria casa del portuale. Del valore economico di 5 milioni di euro oggi è stata pubblicata la gara per la scelta del contraente per l'esecuzione del progetto con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 14 marzo. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute di tutti gli operatori portuali e per dotare l'infrastruttura portuale di un idoneo presidio sanitario anche dal punto di vista logistico, l'ente ha pianificato la realizzazione di un immobile per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del porto e dei suoi lavoratori. In seguito infatti alle mutate esigenze di prevenzione sanitaria manifestatesi nel corso della pandemia da Covid-19, l'autorità di sistema portuale è promotrice della realizzazione di un nuovo edificio ad uso spogliatoio e di infermeria, che rispettasse i più moderni requisiti non solo igienico-sanitari ma di comfort termico ed acustico dei lavoratori. In linea con la politica di ammodernamento del lente, il progetto è altresì finalizzato al miglioramento generale delle performance delle attività lavorative del porto. Il fabbricato avrà una dimensione di 2.690 metri quadrati su due piani e sarà ubicato nell'area in concessione al Terminal Med Center Container Terminal, oggi occupata dal relativo gate di ingresso e dalla viabilità in-out con le relative aiuole. Inoltre, a causa della necessità contingenti di separazione dei flussi, l'edificio è stato progettato in posizione intermedia tra l'area portuale e la zona esterna in modo da facilitarne il controllo.